come attivare il bluetooth su windows 11 è un'operazione molto semplice il bluetooth vi ricordo che vi permette di scambiare file da un computer all'altro da un telefono all'altro, da un tablet all'altro per attivarlo è molto semplice ripeto un click sulla icona di windows che voi probabilmente avrete al centro io invece l'ho messa a sinistra o spostata adesso nel mouse, settings o meglio impostazioni dove hai settings? eccolo qua, tu dovrai cliccare su impostazioni una volta cliccato su settings, che è questa qui, ossia impostazioni, ci clicchi sopra a questo punto attendi qualche istante di tempo e dovrai andare su bluetooth e dispositivi ecco la decidura bluetooth e dispositivi a questo punto non devi fare altro che andare ad attivare il tuo bluetooth per attivarlo devi semplicemente cliccare su questa icona qua a forma di piccola pasticca di piccola pastiglia ci clicchi sopra ed ecco qua sono stato bravo perché sono riuscito ad attivare il mio bluetooth ecco qua ce l'ho fatta ed è per me stato importante va bene a questo punto posso andare a scambiare tutti i file che voglio tra il computer in questione e per esempio la butto là un telefono, uno smartphone, un tablet oppure addirittura con un altro computer che è nei panaggi quindi qui vicino facile no? grazie per avermi visto ed ascoltato in questo video di oggi utenti di youtube iscrivetevi mi raccomando al canale narratore italiano commentati ciao da leandro e al prossimo video